Romina Perry, la meravigliosa Romina Perry, nove anni, alla fine ce l'ha fatta accantato nel pre-partita di Juventus Benfica del 28 luglio alla New York Red Bull Arena. Fantastica Romina. Il no americano. Il no americano. Siudame. Il no americano. Guious civil鐵. Il no americano. Il no americano. Il no americano. Il no americano. Il no başlamento. Torniamo in diretta Romina Perri che non riusciamo ad avere in diretta adesso ma intervisteremo e posteremo ovviamente sul sito Patrimonio Italiano TV Un'eccellenza italiana vera e propria non si può ovviamente non sottolinearlo